A Kiev ti buttano giù dal letto le bombe, se mai stavi dormendo dopo due settimane risucchiato nell'incubo. E cara Grazia se salvi la pelle mentre va a fuoco la casa, con tutte le tue cose, la tua vita. Alle 5 di stamattina un palazzo di nove piani nella zona nord-ovest della capitale ucraina è stato bombardato dall'esercito russo. Almeno due i morti, decine di persone portate via dai pompieri. Colpito anche lo stabilimento dei cargo militari Antonov, a 10 km da Kiev, da dove chi può fugge, mentre è ancora praticamente impossibile per gli abitanti di Mariupol, devastata dei bombardamenti nei giorni scorsi. La Croce Rossa chiede una soluzione urgente per evitare il disastro totale. Oggi altri colloqui in videoconferenza tra aggressori e aggrediti per stabilire almeno un cessate il fuoco. Ma il ministro degli estri ucraino Kuleba insiste con gli alleati occidentali. Dateci tutte le armi necessarie per costringere Putin al fallimento. Obiettivo remoto se non impossibile. Per ora il Cremlino tira dritto e non intende ragioni. Da Mosca nessun segnale che voglia avvalersi della nostra disponibilità a mediare, ripete il segretario di Stato Vaticano Parolin. Proprio a Roma, Stati Uniti e Cina oggi si pallano ad alto livello per la prima volta dallo scoppio della guerra scatenata da Putin. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan incontra l'ex capo della diplomazia cinese Yang Cheichi, consigliere fidato di Xi Jinping. Il governo di Pechino smentisce che i gerarchi russi abbiano chiesto sostegno militare. Non ne hanno nemmeno bisogno. Sono armati fino ai denti e hanno già fatto uno scempio irreparabile. La donna incinta portata via in barella dall'ospedale di Mariupol, bombardato mercoledì scorso, è morta con il suo bambino.